Carpasio è il luogo in cui hanno trovato concreta ospitalità le memorie della resistenza imperiese. Il museo dedicato ai partigiani è uno spazio assai ben organizzato dove è possibile riflettere sulle radici della nostra storia recente e non è un caso perché incastonato nella montagna ligure il borgo storico le cui case formano un grappolo che si appoggia alle onnipresenti fasce vi obbligherà grazie anche ad un incredibile silenzio al recupero della memoria di almeno mille anni di storie apparentemente minime e tuttavia capaci di narrare l'essenza della nostra umanità. Certo la religione magari... I masini non erano troppo religiosi... E tuttavia le campane sono importanti anche qui. Praticamente veniva suonata la campana grossa che si chiamava salva terra. Preghiera per il Signore perché bloccasse questa maledizione perché all'epoca la gente giustamente viveva di raccolti di campagna una grandinata e faceva delle carestie. Forse vi sorprenderà sapere che da queste parti c'era una vera e propria passione per i balui delle vere e proprie mongolfiere in miniatura. Piava la carta velina leggera, la tagliava spessi e poi li incolava, gonfiandolo veniva. Al fondo li metteva in una gazzia dei fili di ferro, con un vento in una manata di stupa, il cotone bagnava di spirito. Con poco spirito perché se non conosceva troppo sciamo piava il ferro. A proposito di storie tra il leggendario ed il vero, come dimenticare la vicenda del santuario di Ciazzime. La Madonna di Ciazzime è un piccolo santuario che si trova a circa un chilometro dal paese ed è una chiesa che si vede o da Montalto o dal mare esclusivamente. Infatti è stata costruita dai marinai che si sono salvati da un naufragio e praticamente si sono diretti verso questa luce immaginaria che loro hanno visto e si sono salvati e hanno stabilito che era questo punto qui. Quindi hanno costruito questa bellissima chiesetta. Da queste parti troverete una cucina che esalta l'inventiva e la capacità delle donne di Carpasio e tra i piatti tradizionali si impone un vero e proprio relitto storico, il pane d'orzo che aspetta solo di essere assaggiato per sprigionare un gusto che troverete solo qui. Allora, questo è il cosiddetto pane d'orzo, la Carpasina, di cui abbiamo la Deco, la denominazione di origine comunale. È un pane antichissimo che veniva fatto soprattutto per i pastori per portarselo dietro perché ha la durata anche di più di un anno, essendo completamente secco, fatto di orzo grezzo, farina integrale o farina di grano duro. Per prepararlo, allora, da secco bisogna sfregarlo d'aglio, così, e si mette a bagno e si lascia qualche minuto. Bisogna fare attenzione che non si spappoli. Poi nel mentre possiamo preparare il pomodoro. I pomodori chiaramente vanno maturi e andrebbe sbrignacato sopra il pane d'orzo, cioè significa che lo dovremmo schiacciare sopra. Si scola bene dall'acqua, sempre una bella irrorata d'olio perché il pane se l'assorbe completamente. Ecco, un bel po' d'olio e poi mettiamo sopra. Adesso noi facciamo così il pomodoro. Tocco finale un filetto d'acciuga perché è l'incontro tra i mari e i monti perché l'unico pesce che entrava nelle valli era lo stoccafisso e l'acciuga sotto sale. E poi ovviamente ancora un goccettino d'olio perché questo pane qui si assorbe tantissimo olio. Eccoli. E' pronti e buon appetito.